Con tutta probabilità dalla prossima settimana dovremo anche noi accodarci a quelle che sono le regioni già in zona gialla e stabilire lo stesso colore. Vero è che però, ripetiamo, questa è una variante meno aggressiva, ma i numeri ci impongono ovviamente di cambiare colore. Andiamo avanti con il Covid perché è imperversa e in più c'è una questione, quella legata ai furbetti del tampone, coloro i quali quindi cercano in qualche misura di non pagare il tampone processato e poi ancora dei rimandi per quanto riguarda le operazioni invece d'ordine, quelle di tutti i giorni che ovviamente rende ancor più drammatica una condizione che già conoscevamo essere difficile. Vediamo. Questa mattina meglio una grande manifestazione di protesta in piazza del plebiscito a Napoli da parte di circa mille disoccupati che lamentano gli esosi costi, soprattutto dei tapponi, ma anche di tutto quel materiale che consente di superare la pandemia. Vediamo. Un amico, un grande artista partenopeo che parla bene di Napoli nel mondo? No, mi dicono dalla regia che non c'è ancora. Quindi io vado avanti con i servizi, poi stabiliamo questo collegamento. Anticipo che si tratta di Salda Vinci, grande artista napoletano, in procinto di andare in scena ha delle difficoltà con internet, ma sicuramente ci raggiungerà tra brevissimo. Intanto andiamo avanti perché c'è uno stop significativo ai grandi eventi in tutta la regione campagna. Naturalmente la causa la conosciamo, la curva che è imperversa, la curva che continua a chiamarsi Omicron, a farne le spese soprattutto al Teatro San Carlo, che rinuncia al Lago dei Cigni, una pièce di Tchaikovsky che aveva grande attesa, soprattutto tra i partenopei. Ascoltiamo. L'arci confraternita dei dottori è quella di San Giacchino al cimitero di Poggioreale di Napoli. Purtroppo nella serata di ieri, erano circa le 21, è collassata completamente. Circa 200 le bare aperte e tanti resti mortali tra le macerie. Noi siamo andati questa mattina sul posto, non soltanto a monitorare la situazione, è stato difficile perché il cimitero era chiuso, ma abbiamo intercettato la voce dell'assessore delegato. E allora, cambiamo argomento adesso perché il 5 gennaio cominciano ufficialmente a Napoli e in campagna generale i saldi invernali, nonostante la crisi economica che imperversa causa, lo sappiamo, anche l'innalzamento della curva del Covid. I napoletani si sono riversati per le strade del centro di Napoli per fare acquisti, ovviamente sperando di ritrovare degli articoli scontati. Vediamo. Questa notte, cari amici, arriva la Befana. Come sapete, i napoletani si sono già riversati da questo pomeriggio per le strade del capoluogo partenopeo per l'acquisto di dolciumi, calze dedicate ovviamente ai bambini, ma direi anche agli adulti. Ci fermiamo per un istante, andiamo in pubblicità, poi di nuovo insieme. Io vado subito in diretta al Teatro Cilea perché c'è Salda Vinci, straordinario artista, in procinto di andare in scena con il suo nuovo musical, La Fabbrica dei Sogni. Vado subito a salutarlo perché il collegamento, non sappiamo come potrà essere dal punto di vista proprio meramente tecnico, lo vedo un po' a scatti, ma lo vedo, sono contento. Ciao Sal, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, a tutti quei in studio. Purtroppo ragazzi, la precarietà del collegamento mi impone di tagliarlo qui, ma potreste fare anche i presentatori televisivi. Devo dire, però soltanto in coppia, meglio di così non lo potevi lanciare, Sal, questo messaggio, questo auspicio e soprattutto questo invito a correre in teatro. Buonasera Claudio. Buonasera a te. Allora, partiamo un po' con quelli che saranno i temi centrali, appunto, per usare un eufemismo, e la puntata di questa sera. Poter approfondire e anche divertirsi, perché si tratta pur sempre di un spettacolo, insomma, al di là poi della cultura parte europea che porta con sé, ma parlare dei De Filippo è sempre qualcosa di divertente. Io ricordo l'appuntamento ormai consueto di Punto Centrale, questa sera ore 20 e 30, quindi tra pochissimo ti saluto, ti ringrazio, e saluto anche i nostri telespettatori, ai quali rimando all'appuntamento consueto, altrettanto consueto, con il telegiornale alle ore 19 e 30, sempre ovviamente in diretta su Canale 8. A domani.